Il cemento, il ferro, come potete vedere, si piega con le mani, perciò il suo lavoro non lo fa più, certamente. Preoccupano ancora le condizioni della E45, a far paura in questo caso, come ci ha segnalato una cittadina, sono le condizioni in cui versano alcuni piloni della viadotto, ci troviamo nel tratto aretino. Ed è proprio sotto il viadotto Puleto, nel comune di Pieve Santo Stefano, che Massimo Tizzi, mentre stava cercando tartufi, si è imbattuto in questa struttura. Ieri ho provato a smuovere del ferro, viene via con le mani, si rompe, perciò mi sembra che è molto più che fatisciente. È una situazione che ovviamente vi preoccupa? Preoccupa, preoccupa sì, molto. Cosa vi preoccupa? Che possa cadere, che possa succedere quello che è successo a Genova. Analoga situazione anche a qualche chilometro di distanza nei pressi dell'uscita Canili. Due sono le inchieste portate avanti dalla procura di Arezzo sulla E45. L'ipotesi di reato vanno dal disastro colposo all'attentato dalla sicurezza degli utenti. Il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, inoltre a seguito del crollo della piazzola di Sossa, tra le due uscite di Pieve Santo Stefano, aveva anche disposto una superperizia sul tratto franato. Erano emersi così difetti di progettazione e carenza di manutenzione. era stata infine riscontrata la presenza di amianto tre volte superiore ai limiti nel terreno venuto giù.